Buongiorno, buongiorno, eccoci, benvenuti a questo appuntamento con l'approfondimento dei programmi dei principali partiti che concorreranno alle elezioni europee dell'8-9 giugno secondo un format ormai tradizionale per Utilitalia che alla vigilia dei più importanti appuntamenti elettorali pone sul tavolo le questioni principali per i settori che sono di interesse diretto delle imprese e dell'associazione e ne si confronta con i candidati appunto dei principali gruppi e movimenti. Oggi è con noi Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, co-presidente del gruppo degli conservatori europei al Parlamento europeo e candidato ovviamente alle nuove elezioni dell'8 giugno. Grazie Procaccini per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi, buongiorno, grazie dell'invito, un ringraziamento, un saluto a Utilitalia in generale. Partiamo. Partiamo, allora partiamo naturalmente la partenza è quasi obbligatoria, il tema del Green Deal è sempre più importante e come dire è sempre più evidente come le decisioni centrali, cruciali per la nostra vita e per la nostra politica economica passino sempre più da Bruxelles, Bruxelles e Strasburgo e sempre meno da Roma. Pochi giorni fa, per esempio, c'è stato il tratto finale della direttiva europea sulle case green, l'Italia ha votato contro all'Ecofin ma la maggioranza ampia dei paesi ha votato a favore e noi abbiamo posto una domanda che, vista la nostra esperienza recente, diciamo è abbastanza scontata, cioè chi paga, diciamo così, i costi della transizione. Più in generale il tema del Green Deal è diventato un tema cruciale anche nel dibattito diciamo politico ideologico, tra chi è un sostenitore si è detto addirittura troppo rigido del Green Deal e chi invece è un oppositore un po' per i costi economici ma anche per i costi sociali che certi tipi di obiettivi impongono alla nostra collettività. Lei come la vede? E soprattutto, come dire, tagliandolo in chiave concreta su alcuni settori dall'automotive all'agricoltura e così via, come pensa che questa transizione si possa percorrere senza troppi salti, anche alla luce del dibattito che abbiamo visto svilupparsi fin qui? Sì, dunque ovviamente sarò un po' brutale nella sintesi perché è un discorso molto complesso che parte proprio da un'impostazione ideologica secondo me, secondo noi sbagliata. È l'impostazione ideologica di chi ha immaginato che in qualche modo una sorta di radicalismo ambientalista potesse prendere, potesse sostituire, fare da surrogato ad una ideologia socialista che soprattutto nel secolo scorso in qualche modo ha infestato l'Europa in generale. Certi tratti comuni sono piuttosto evidenti, per esempio appunto un'impostazione da stato, diciamo, etico per un verso, una certa ostilità nei confronti della libertà in senso lato, della libertà economica, della libertà d'impresa, ma anche della libertà di scelta, della libertà di scegliere di come muoversi, di come vestirsi, di come mangiare. C'è proprio un'impostazione ideologica di regista che a noi ricorda purtroppo una ideologia del secolo scorso e che in qualche modo si è riciclata. Cosa, come si è tradotto? Si è tradotto attraverso una agenda di governo che è stata l'agenda della Commissione Europea del 2019, una Commissione Europea, ricordiamolo, che era espressione di governi di centro-sinistra e verdi e quindi avevano dato questo tipo di indirizzo particolare, ricordiamo l'attività di Franz Timmermans, vicepresidente di quella commissione, e dicevo, tutti i regolamenti, le direttive che poi sono state approvate, emanate dalla commissione, poi approvate dal Parlamento Consiglio, hanno risentito di questo approccio ideologico. L'ultimo, quello del Green Deal, è abbastanza emblematico perché si imprime una direzione, una velocità, questa transizione che è obiettivamente irrealizzabile se non a costi sociali impensabili. Costi sociali perché chiaramente sono quelli che poi derivano dai costi economici. noi sappiamo che il patrimonio edilizio è un emettitore di gas e clima alteranti circa il 30%, ma è il 30% di cosa? È il 30% di un 7-8% che sono le emissioni clima alteranti dell'intera Unione Europea che nel caso dell'Italia riguardano meno dell'1%. Questo accade mentre nel resto del mondo le emissioni sono in netto aumento e non sono compensate dalla nostra diminuzione, anche per sbaglio. Quindi qual è il nostro approccio in questo senso? È un approccio chiaramente di buon senso, ovvero giusto cercare di contenere al massimo le emissioni clima alteranti dal metano, la CO2, PM, insomma 10. Comunque bisognerebbe farlo avendo per l'appunto una gradualità che sia una gradualità in qualche modo condizionata dalle condizioni geopolitiche intorno a noi, condizionata dalla maturazione delle tecnologie, condizionata dalla neutralità tecnologica. Noi insistiamo molto su questo concetto della neutralità tecnologica. Che cosa vuol dire alla fine? Vuol dire condividere l'obiettivo, ma lasciare poi la libertà di individuare la strada migliore per raggiungere quell'obiettivo. Cioè oggi il portafoglio delle soluzioni tecnologiche è ampio, è in costante evoluzione e progresso, questo può consentire ad ogni nazione di individuare nella propria specificità la soluzione tecnologica migliore per raggiungere quell'obiettivo. Questo è un principio della neutralità tecnologica che per noi dovrebbe essere alla base della prossima stagione europea. E questo, insomma, voglio dire, ripeto, è la brutale sintesi che ho provato a fare di un concetto normalmente molto più ampio. Non ho voluto parlare della questione agricoltori, allevatori, pescatori, eccetera, eccetera. Avrei potuto farlo, preferisco rimanere su un piano un po' più ampio per far comprendere il nostro, come dire, la nostra base ideale, da cui poi noi facciamo derivare naturalmente delle proposte progettuali, programmatiche, che sono quelle di Fratelli d'Italia, ma che sono quelle anche dei conservatori europei. Ma su questo magari ne parleremo anche in un'altra parte. No, infatti, l'approccio, diciamo, generale è molto chiaro. Ora la volevo portare, diciamo, su alcuni filoni specifici, partendo dall'inevitabile, come dire, approccio del buttarla sui soldi, che può essere una cosa un po' volgare, diciamo. Però è buonsenso. Molto, molto concreta. Anche l'innovazione tecnologica, pensiamo all'energia, parlo delle infrastrutture, ma pensiamo anche all'idrico, poi parleremo nello specifico di questi settori, a prescindere, in parte, in una certa parte, dagli obiettivi politici generali che uno si dà, impone una quota crescente di investimenti, di accompagnamento agli investimenti. La tradizionale impostazione regolatoria negli ultimi anni per i servizi a rete è stato quello di ribaltare gli investimenti in tariffa. Cioè io, con la tariffa, finanzio e la manutenzione e l'innovazione delle infrastrutture del settore. Tuttavia, quando la mole di investimenti necessari, per esempio pensiamo all'energia, il passaggio all'idrogeno, e tutte queste cose qui, diventa, come dire, anche dal punto di vista volumetrico, piuttosto importante, cioè più alta delle media del passato, questo ribaltamento in tariffa pone dei problemi economici centrali abbastanza evidenti, che non è nemmeno il caso di dettagliare. Come se ne esce, secondo lei, e quali strumenti alternativi ci sono? Ma intanto, ecco, anche qui c'è una differenza sostanziale di approccio. Da una parte c'è l'approccio, diciamo, impositivo, vessatorio, che è fatto di sanzioni, che è fatto di divieti, che è fatto di obblighi. Dall'altro lato c'è invece l'approccio di chi pensa che si debbano accompagnare determinate evoluzioni, non si debbano imporle con la forza, anche perché se sono forti di loro, sono capaci di, come dire, di conquistare campo da soli, senza neanche bisogno dell'intervento pubblico, perché poi alla fine il cittadino cerca la soluzione migliore per se stesso, e quindi sia in termini di risparmio economico, sia in termini di performance tecnologica, sia in termini anche di rispetto dell'ambiente. Ma, ripeto, questo è un istinto che andrebbe accompagnato, andrebbe accompagnato come? Andrebbe accompagnato con promozioni, finanziamenti, sostegni, sgravi, con un approccio che è un approccio specularmente opposto a quello degli obblighi e delle sanzioni. Nel caso dell'energia, perché cominciamo a entrare un po' più specificatamente nel caso dell'energia, è chiaro che qui abbiamo, come dire, improvvisamente sbattuto la faccia contro quella che era probabilmente la madre delle carenze italiane, soprattutto, ma anche europee, ovvero l'approvvigionamento energetico. L'approvvigionamento energetico ha costi alti, esclusivamente o quasi esclusivamente esterno, talvolta con pochi o unici venditori, come nel caso della Russia, naturalmente ci ha fatto riscoprire la necessità di diversificare l'approvvigionamento energetico, di avere anche lì un approccio neutrale, quanto più possibile neutrale, che non vuol dire rivolto al passato, vuol dire semplicemente fortemente rivolto al futuro, ma con i piedi ben piantati a terra. Quindi finché c'è necessità di fonti fossili, ci si approvvigiona anche da fonti fossili, ma avendo la prospettiva che il futuro non può essere le fonti fossili, soprattutto per una nazione come l'Italia, che poi sulle materie prime non è particolarmente ricca. Ecco, sulle materie prime, secondo me, c'è stato l'errore di fondo della transizione energetica europea, cioè si è partiti dalla fine, si è partiti dalla punta della piramide e quindi dal consumatore finale, scaricando sul consumatore finale per l'appunto il costo economico e sociale di questa transizione, mentre invece si sarebbe dovuto partire dalla base. La base è innanzitutto mi doto delle materie prime necessarie per la transizione, quindi partiamo dalla base, la base sono le materie prime. L'Unione Europea ha le materie prime, neanche per sbaglio, è stata fatta un'alleanza cosiddetta delle materie prime ad ottobre dell'anno scorso, ma ad ottobre dell'anno scorso, che è un ritardo allucinante. Leggerissimo ritardo. A metà c'è la filiera produttiva che poi trasforma le materie prime e anche lì abbiamo quella filiera produttiva? No, abbiamo esternalizzato anche quella filiera produttiva e quindi adesso corriamo nel tentativo di riguadagnare il tempo perso, ma è una corsa naturalmente controvento perché nel frattempo le materie prime, le filiere produttive, sono appannaggio di altre nazioni extra Unione Europea e quindi poi alla fine per il consumatore finale, non solo, anche per le società di utilities che naturalmente poi si rivolgono al consumatore finale, naturalmente è una corsa controvento. quindi non dico che dobbiamo tornare indietro, questo assolutamente no, dico che bisogna avere cognizione della situazione, che bisogna investire, secondo me, nelle tecnologie che possono essere più performanti nell'immediato futuro. me ne viene in mente senza entrare in una questione enorme, complessa, che è quella del nucleare, di cui adesso si parla molto. Mi viene in mente questo annuncio fatto in Commissione Ambiente da parte di Eni di essere pronta addirittura con le centrali da fusione nucleare già nei primi anni del prossimo decennio. Ora, se fosse davvero così, naturalmente questo vuol dire che dobbiamo continuare a investire sulla ricerca perché certamente dalla ricerca possono arrivare delle soluzioni tecnologiche che oggi ci sembrano inimmaginabili ma che in realtà sono molto preziosi. Questo vale in generale per il campo delle rinnovabili. Più stiamo, più, come dire, gettiamo il cuore oltre le ostacole e quindi inseriamo delle soluzioni nuove e meglio è. Però, ripeto, sempre tenendo i piedi ben piattati per terra perché altrimenti se no rischiamo di essere spazzati via dalla storia e dal tempo perché siamo troppo dipendenti da altri, non abbiamo quella sovranità energetica che è il presupposto della libertà politica perché che se ne dica la sovranità energetica è il presupposto della sovranità politica. Quando parlo di sovranità politica non intendo la banalizzazione del dibattito politico intendo proprio la capacità di non dipendere da altri per la propria democrazia. Ecco, proprio per andare, diciamo, su un terreno molto pratico. Lei ha citato Eni, ma le aziende, diciamo, di servizi pubblici, locali, nei servizi a rete, eccetera, sono un panorama molto variegato con anche realtà medie, medio-piccole, eppure di grande, a volte efficacia, innovazione, eccetera. Allora, sul finanziamento degli investimenti, noi leggendo il DEF, l'ultimo DEF approvato dal governo, vediamo che nei prossimi anni spazi di aumento ulteriore del debito pubblico italiano ne abbiamo pochini. Leggendo le cronache del dibattito comunitario, viene da dire che spazi per nuovo debito comune europeo al momento, diciamo, non è il caso di scommetterci più di tanto. Per le aziende industriali dei settori ordinari, negli ultimi anni ha avuto un certo successo, quella che si è chiamata Industria 4.0, oggi si chiama Transizione 5.0, per finanziare, accompagnare forme di investimento innovativo per cambiare i processi di produzione. Ecco, mutati smutandi, su una via del genere per incentivare e accompagnare con appunto una spinta anche pubblica gli investimenti delle aziende, delle utility nei settori più promettenti e dell'energia, oppure anche dei rifiuti, lo vedremo, c'è molta tecnologia lì da portare e nell'idrico. È una via percorribile, so anch'io che ci vogliono un po' di soldi pubblici, ma meno diciamo così dell'incentivo diretto. Beh, però intanto partiamo dalle buone notizie. Le buone notizie sono che l'Italia è corsa ai ripari. Alla fine, se guardiamo le modifiche sostanziali al PNRR, sono state tutte orientate sul piano energetico, approfittando anche del Repower EU che apriva questa porta per la modifica dei piani di ripresa e resilienza e l'Italia ci si è infilata dentro. Ha approfittato perché chiaramente sa perfettamente che questo è il suo tallone d'Achille storico e quindi bene ha fatto il governo italiano ad approfittarne e questo come si traduce? Si traduce in opportunità, alcune sono già evidenti che riguardano dall'agrivoltaico alle alle CER alle voglio dire le comunità energetiche proprio oggi anzi se non sbaglio venerdì scorso sono stati aperti i primi bandi insomma voglio dire è una è una prospettiva sicuramente interessante delle risorse pubbliche in questo senso ci sono chiaramente ce ne vorrebbero tante di più se va a standir però ci sono e a livello europeo diciamo che noi siamo sempre stati favorevoli a questo discorso dell'eurobond e quindi la possibilità di in qualche modo di finanziare eventuali investimenti attraverso il debito comune vediamo perché comunque si è aperta una breccia con il recovery next generation anche prima sembrava impossibile prima sì esatto quindi vediamo siamo anche lì cerchiamo di essere ottimisti dopodiché secondo me resta da dove sono partito cioè secondo me l'Italia deve deve fare un grande sforzo sul fronte delle materie prime perché poi lì a cascata questo aiuta nei costi di produzione in maniera sostanziosa certo bisogna superare il problema del cosiddetto permitting che è uno dei grandi grandi palle al piede dello sviluppo italiano perché noi sappiamo che abbiamo un paesaggio da tutelare certamente va tutelato però innegabilmente ci sono degli estremismi che invece vanno respinti questa è una nazione in cui si fa fatica a fare un impianto a proposito di rifiuti un impianto di compostaggio ci sono battaglie campali per fare un impianto di compostaggio quindi realizzare impianti favorire un certo tipo di appunto di permitting secondo me è decisivo se quindi da un lato si fa questo se da un lato si cerca di semplificare in termini burocratici dall'altro lato si sostengono nei limiti del possibile le aziende le utilities nell'incrociare produzione con consumo io penso che la strada non possa che essere quella se anche questa accompagniamo la ricerca come dicevo tecnologica che è in rapida evoluzione secondo me queste tre gambe sono in grado di tenere in piedi il tavolo dello sviluppo economico produttivo ed energetico ecco dedichiamo agli ultimi minuti proprio per declinare questi concetti nei due settori dei tre di cui abbiamo parlato o meno ricordiamo che in Italia sostanzialmente punto di vista delle cose di cui discutiamo oggi è centrale nei settori dell'energia dell'idrico e dell'igiene ambientale dell'igiene urbana dei rifiuti quindi abbiamo parlato molto di energia dedicherei gli ultimi minuti a idrico e rifiuti nell'idrico abbiamo visto e continuiamo a vedere purtroppo che ci sono tassi i canonici tassi di dispersione della rete idrica rimangono imponenti nei censimenti annuali dall'Istat ad altre fonti come dire siamo sempre più o meno lì il PNRR pone degli obiettivi importanti anche su questo ma oltre a questo tema che è un tema storico ci sono molti temi nuovi legati al cambiamento climatico all'importanza del riutilizzo delle acque reflue dell'utilizzo dell'idrico anche in chiave energetica se lei dovesse stilare una sintetica agenda delle priorità da questo punto di vista cosa metterebbe dei primi due o tre posti quindi parliamo di idrico in questo in particolare esatto dunque allora partiamo da un elemento di verità l'elemento di verità è che le precipitazioni piovose non sono diminuite nello storico insomma che noi abbiamo a disposizione il problema è che si sono molto concentrate e questo significa che non possiamo disperderle come purtroppo sono state disperse in maniera colpevole nel corso degli anni quindi io credo che qualunque investimento fatto in questo caso nelle reti di distribuzione sia un investimento che produce un moltiplicatore straordinario qualunque intervento investimento fatto sull'utilizzo della risorsa idrica da tutti i punti di vista da quello dell'utilizzo diciamo produttivo domestico credo che faccia svoltare l'Italia più di altre nazioni come sapete il governo ha investito col commissario dell'acqua a nome di una missione su cui peraltro il commissario è stato anche dotato di strumenti e di risorse proprio perché l'acqua per l'Italia voglio dire è una risorsa su cui paradossalmente si è investito poco si è utilizzata poco in termini energetici al metto purtroppo anche dell'incidente che naturalmente ci ha un po' scioccato tutti in termini idroelettrici quel revamping di cui peraltro se non ho capito male si stava anche su cui si stava lavorando a Suviana è un revamping decisivo perché permette anche qui di approfittare delle nuove tecnologie la tecnologia del doppio invaso vuol dire raddoppiare la produzione energetica vuol dire focalizzarla meglio nelle ore di cui c'è più bisogno nelle ore del giorno in cui c'è più bisogno vuol dire anche valorizzare per esempio i pannelli fotovoltaici flottanti che sono un'altra bella tecnologia particolarmente performante insomma noi purtroppo abbiamo anche lì centrali idroelettriche troppo obsolete e anche lì naturalmente rifare queste operazioni di revamping o realizzare di nuove costa soldi però anche qui il moltiplicatore è straordinario io voi sapete c'è anche questa questione delle aste che è particolarmente sensibile io credo che che si possano fare investimenti senza per forza liberalizzare totalmente un settore che vedo che altre nazioni sono bene attente nel liberalizzare in maniera totale perché da un lato servono gli investimenti ma dall'altro l'altro l'altro lato serve anche un know-how che hanno in pochi però insomma ecco dicevo tornando un po' e all'essenza della domanda credo che credo che qualunque intervento venga fatto sulla risorsa idrica è di enorme importanza e credo che il governo stia facendo nei limiti del possibile tutto quello che può naturalmente parliamo di limiti del possibile siamo gravati da questo enorme debito pubblico che ci condiziona ci sono state scelte anche qui non sto a rigirare il coltello nella piaga che purtroppo non hanno reso per la mole di debito che hanno generato e però bisogna a maggior ragione ottimizzare l'allocazione degli investimenti e quindi non possiamo sprecare niente 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 dobbiamo cercare di essere estremamente efficaci nell'allocazione delle risorse perché ogni risorsa è estremamente preziosa chiudiamo con i rifiuti i rifiuti mostrano in Italia una situazione sostanzialmente spaccata in due adesso banalizzo in cui larghe aree del paese in particolar modo nel centro sud la carenza infrastrutturale di termovalorizzatori impianti in generale produce questo turismo dei rifiuti che però costa dei soldi e siccome la Tari deve coprire integralmente i costi il risultato è che nelle aree dove il servizio è peggiore la tariffa è spese mediamente più alta perché oltre a pagare la normale raccolta e smaltimento deve pagare queste colonne di camion che vanno verso il nord o verso l'estero dal punto di vista europeo le prospettive del settore sono come dire dominate dalla ipotesi di revisione della direttiva quadro ma mi chiedo se come dire i difetti e le soluzioni quindi a questi difetti siano più italiane oppure se la revisione in termini europei della direttiva quadro possa aiutarci in qualche modo io credo che questa revisione sarà probabilmente uno dei dei file più più rilevante della prossima legislatura europea c'è questo lavorio sulla cosiddetta gerarchia dei rifiuti su cui rincorriamo perché l'Italia da un certo punto di vista adesso dico anche quale è stata particolarmente performante da altri punti di vista molto meno l'Italia ha scongiurato un pericolo mica da ridere con la questione della direttiva imballaggi perché la direttiva imballaggi sostanzialmente avrebbe ucciso il concetto di economia circolare su cui l'Italia è stata brava su cui gli italiani sono stati sono stati bravi perché comunque pur con diverse manchevolezze però insomma sull'economia circolare sul riciclo dei rifiuti in particolare sulla differenzazione dei rifiuti l'Italia ha fatto i compiti che altri non hanno fatto e quindi l'idea che tutto questo potesse essere riportato all'anno zero con questa utopia del riuso che è un'utopia perché applicata a determinate categorie di beni chiaramente utopistica beh insomma ce la siamo vista brutta e devo dire soltanto un intervento molto oculato di cui un giorno magari racconterò adesso è troppo presto dovrà passare qualche anno per svelare e far depositare le tue i veri però ecco il governo italiano è riuscito proprio in zona Cesarini a scongiurare un pericolo che ci avrebbe procurato un danno enorme a tutta la filiera del ciclo dei rifiuti che naturalmente poggia molto sul riciclo dei rifiuti oltre che sulla riduzione come giusto che sia sul riuso come giusto che sia eccetera eccetera tornando a noi il ciclo dei rifiuti poggia anche molto sulle spalle degli amministratori locali io sono stato amministratore locale per tanti anni quindi ho sviluppato una certa eh expertise in questo senso e so bene quanto coraggio talvolta ci voglia nel far germinate scelte che non vengono comprese dalla cittadinanza per il solito principio della sindrome NIMBY che conosciamo bene ma è un fatto è un fatto che l'ho già accennato in una precedente risposta per realizzare un impianto anaerobico di gestione dei rifiuti è una ipopea di ricordi comitati territoriali ricorsi alla giustizia amministrativa insomma è una roba complessissima a Roma ne spieghiamo qualcosa diciamo esattamente ciò nonostante insomma la direzione mi pare inevitabile che rimanga questa però anche qui con una particolare attenzione all'evoluzione tecnologica perché su Roma già che ci siamo beh io da quello che ho potuto vedere per esempio di questo termovalorizzatore che sostanzialmente chiude o meglio quasi chiude no chiude chiude il ciclo dei rifiuti beh attenzione perché ci sono tecnologie che ormai sono obsolete e ce ne sono altre che invece cominciano a essere diffuse in tutta Europa e che noi dovremmo avere come riferimento perché anche qui sono più performanti dal punto di vista innanzitutto energetico per esempio e quindi nello scambio tra energia impiegata ed energia ottenuta sono più performanti anche dal punto di vista ambientale e non è che uno lo dico da 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 destra figuriamoci se uno non deve tenere in considerazione anche l'aspetto della conservazione dell'ambiente eh sono tecnologie che parlano di pirorizzatori di gasificatori di di torcia a plasma insomma ce ne sono diverse eh io credo che eh l'Italia debba guardare con grande interesse a ciò che accadrà eh domani piuttosto a ciò che doveva accadere l'altro ieri e non l'ha fatto perché la verità è che un termo valorizzatore come quello eh del sindaco di Roma proposto al sindaco di Roma andava fatto vent'anni fa purtroppo e invece non è stato fatto e ripeto qui la responsabilità politica è trasversale non stiamo a far giocare su questo perché eh io credo che potrebbe essere forse la conclusione eh di questa chiacchierata per cui ringrazio eh lei ringrazio eh Utilitalia io credo che su certi temi eh l'Italia debba avere la lucidità eh di crearci una zona franca di protezione cioè che vuol dire vuol dire che su certi temi come per esempio l'approvvigionamento energetico gli investimenti eh sulle ehm sulla ricerca eh si debba creare una zona franca dal ping pong della politica quotidiana eh io credo che un po' come con la politica estera su certi temi l'Italia debba avere la capacità di tracciare una linea che non può cambiare ad ogni governo certamente è legittimo che ogni governo possa dare delle delle sterzatine però la direzione deve essere quella perché gli investimenti sono talmente imponenti e la la rendita è talmente dilazionata nel tempo eh che inevitabilmente se uno sposta continuamente gli investimenti inevitabilmente sposta sempre più in avanti il momento in cui rientra di quegli investimenti su questo io credo che destra sinistra centro debbano essere capaci di eh fare una avere un approccio più maturo del passato eh su determinate questioni dobbiamo fare una sorta di armistizio per cui ognuno deve essere portatore del proprio punto di vista per carità però nei limiti di una direzione di marcia che deve essere quella eh altrimenti se no veramente rincorriamo continuamente eh e naturalmente questo poi vuol dire mettere un macigno eh sulla possibilità che le prossime generazioni possano approfittare delle scelte eh giuste lucide fatte oggi dai decisori italiani ed europei anche perché se no altrimenti diventa una corsa sul posto diciamo così esatto un po' il tapirulan per cui siamo sempre sempre lì sì sì l'effetto tapirulan che può fare bene ma insomma uno poi si pone degli interrogativi sul perché lo sta eh facendo allora con l'obiettivo di superare questa corsa sul posto che è un obiettivo ancora più sfidante rispetto a quelli posti dalla eh transizione energetica chiudiamo questo confronto ringraziando ovviamente Nicola Procaccini anche per eh la chiarezza con cui è andato nella eh nella concretezza diciamo dei temi proprio per questo lo abbiamo eh chiamato e augurandogli naturalmente un in bocca al lupo come facciamo con tutti per il prossimo eh turno elettorale grazie davvero Procaccini e a presto grazie arrivederci a presto arrivederci